Ragazzi siete pronti a fare esplodere tutto quanto il mondo? Ora io non so se mi spiego esattamente qua ma guardate un pochettino cosa abbiamo combinato Ho riempito tutto quanto il mondo di TNT Tutto! Siete pronti? Accendiamola Accendiamola non vedo l'ora Non vedo l'ora Accendiamo ovviamente qua dal centro così dovrebbe prendere più o meno tutto quanto Guardate che casino! Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Total House Bombover Oggi non avrò pietà per niente e nessuno Riusciremo a distruggere tutto quanto e se non ce la dovessimo fare beh amene I livelli comunque sono sbloccati quindi al massimo salto il livello che non riesco a fare E continuo perché ve li voglio fare vedere tutti quanti Questo è l'ultimo episodio della serie dove distruggo tutto quanto con la TNT Mi raccomando lasciate un bel mi piace perché è importantissimo per supportare me e per supportare anche questa serie Perché potrei portare un'altra che ne sapete Intanto il livello numero 6 lo iniziamo a difficoltà facile Perché se non sbaglio mi ricordo più o meno questo livello E so che non sarà per nulla Aspetta C'è un problema Perché ho soltanto No aspetta Eh Cosa? No ragazzi c'è un grosso problema Io ho soltanto un accendino Dov'è la mia TNT? Cosa devo fare? Devo dare fuoco alla casa per caso? Ma non è possibile Non è possibile non me lo fa Si è buggato? Mi sa che si è buggato tutto Si era buggata la mappa e quindi l'ho dovuta ricaricare ed è per questo che non potete vedere gli altri livelli Cioè li segna come se io non li avessi fatti Però ho sbloccato gli ultimi tre livelli quindi sono proprio curioso di vedere di cosa si tratta Se sono facili se sono difficili Se mi faranno sclerare tantissimo e soprattutto molti di voi Oh mio dio mi sto dando troppa TNT non ci posso creare Ho bisogno di tutta questa TNT per far esplodere questa casa Dicevo molti di voi mi hanno consigliato di utilizzare il vetro per far sì che la TNT non vada da tutte le parti Quindi mi avete detto tutti quanti Kendall il vetro lo devi utilizzare per bloccare la TNT Così non schizza via praticamente e riesci a finire il tuo capolavoro Riesci a distruggere tutto quanto Siete dei geni Siete veramente molto molto intelligenti Grazie mille a tutti quelli che me l'hanno consigliato E che sto facendo Che diavolo sto facendo Mi ero dimenticato come si giocava questa mappa Non devo piazzare così tanto a TNT tutto vicino all'uno con l'altro Quindi facciamolo con cautela con calma e con arte Perché chi ha l'arte la può anche mettere da parte Io non ho alcuna arte quindi non metto nulla da parte E adesso continuiamo in questo modo Non ho voglia di fare questo livello per altri 45 minuti Visto che l'ultima volta che ho provato a fare questa mappa Dove dovevo far esplodere le case Sono stato a registrare ragazzi per più di 3 ore 3 ore per un video di 10 minuti Vi rendete conto? Ecco quindi questa volta ho sbloccato tutti i livelli direttamente Così se mi dovessi bloccare in un livello Almeno vado avanti e basta Piuttosto che sclerare come un matto Ma abbiamo veramente tantissima TNT questa volta Quindi utilizziamola tutta quanta per bene Piazzandola un pochettino così a casa Un pochetto ovunque No dentro casa la devo mettere per bene Perché tanto dentro casa ragazzi Non può mica schizzare via No 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 dentro casa quindi riempiamo proprio tutto 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 Non voglio che resti neanche un blocco qua Non riempito Vai tutto 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 Spacca tutto quanto con la TNT Spacca tutto Spacca 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 Chi è il maestro del griffing eh? Io sono il maestro del griffing Ok facciamo così Bene 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 E comunque noi continuiamo così Il tetto dovrebbe essere già bello E' pieno di TNT Non credo che dobbiamo metterci degli altri petardi sinceramente E basta Credo che dovremmo essere tutti quanti a posto C'ho gli ultimi due pezzi di TNT Che li potrei mettere qua sul tetto Uno e vediamo se ce la faccio E due Ok Ora non dobbiamo fare altro che barricare un pochetto Fare tipo una specie di muraglia Tipo così vedete Uno due Uno due Questa volta riuscirò a completare questa mappa Una volta per tutte Non devo far altro che fare queste piccole muraglie così Sperando che vadano bene Sperando soprattutto che non la debba fare sul tetto Perché sul tetto è un pochettino difficile Arrivarci per fare una muraglia Un pochettino tanto difficile Questo non lo dovevo mettere là Però ormai è lì Quindi non fa niente Allora dove iniziamo ad accendere? Io credo che dobbiamo accendere da qua Se accendiamo da qua forse è meglio Ok vediamo un pochettino se ce la posso fare Come vedete ho riempito tutto quanto per bene Dovrebbe andare bene più o meno Insomma Beh diciamo che la casa è esplosa Il tetto un po' meno Il tetto non è stato proprio fatto bene Quindi rifacciamolo Ok questa volta ragazzi ho utilizzato un approccio un pochettino diverso Quindi come vedete abbiamo fatto delle piccole barriere di vetro Attorno alla TNT che sta sul tetto Quindi spero che adesso vada tutto bene Non dobbiamo far altro che testare Iniziamo accendendo la prima TNT Che dovrebbe far esplodere tutto quanto a ruota Vi prego Per favore almeno questa volta fa sì che tutto quanto funzioni per il meglio Eh dai Allora ci possiamo un pochettino accondentare Perché se ci pensate la casa è veramente molto molto grande Ora a me piacerebbe provare il livello numero 9 a modalità difficile Proprio per vedere che razza di casa Uh ma questa è una casa ultra tecnologica Ok Wow Ora sì che stiamo parlando Questa sì che è una casa da imperatore E soprattutto non mi sembra neanche tanto difficile da fare esplodere a dir la verità Beh ora ovviamente io dico così Dico che non mi sembra difficile da fare esplodere Ma poi vi posso assicurare che sarà super complicata da fare esplodere Però il fatto che il tetto sia Ehm Praticamente regolare E non un tetto a punta Lo rende sicuramente molto più semplice Quindi facilita il mio lavoro In un certo qual senso Però 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 Che cos'altro dobbiamo fare Dobbiamo salire anche sul tetto intanto Perché è importante Quindi facciamo così E direi che più di Non lo so 4 Più di 4 TNT Non penso che ci servano a dir la verità Che dite Forse qualcun'altra la dobbiamo piazzare In effetti Allora intanto lo mettiamo qua Perché questo è un posto veramente perfetto Per farlo esplodere Uuuu Guarda No 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 Non cadere Vabbè non fa niente Intanto riesco a arrivarci lo stesso Vero? Dai che ci arrivo Dai che ci arrivo Che Kendall non è mica un nano Quindi dovremo farcela ragazzi Questa volta sono fiducioso Possiamo fare esplodere questa casa Me lo auguro veramente tanto Perché Oh mio dio Questa mappa è difficilissima ragazzi Questa è la mappa più difficile Che io ho mai giocato in vita mia Io non pensavo che griffare Una casa fosse così tanto difficile E invece lo è Lo è come Quindi dobbiamo piazzare anche un po' di TNT qua Perché dobbiamo distruggere gli standardi Dobbiamo distruggere il vetro Dobbiamo distruggere le fence Tutto deve andare via Tutto 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 Non dobbiamo lasciare minima traccia di questa casa Dobbiamo radere tutto quanto al suolo Con il nostro rasoio No con la nostra TNT Non dobbiamo radere nulla con il rasoio E facciamo partire il tutto da qua Ok dai forza La casa è ben circondata di TNT Guardatela E che è tutto Guardate Forza Eh Sì o no? Evidentemente no Tra l'altro ho notato Mi sono appena accorto ragazzi Che il vetro sparisce Quindi non è vero che il vetro va utilizzato come dicevate voi Voi mi avete detto che il vetro si va messo tipo Dietro la TNT In modo tale da creare una specie di barriera Così la TNT non schizza via Ma mi sa che non è vero Guardate allora Ora io do un'occhiata a questo vetro Se sparisce vuol dire che non serve a nulla questo vetro Serve soltanto per arrivare in posti in cui altrimenti non arriveresti Credo Vabbè comunque proviamoci di nuovo Vedete sparisce Non c'è più il vetro E allora non è vero che serve per bloccare tutto Questa no Avete capito male voi forse Vabbè comunque non importa Dai 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 Sempre quel tetto là Mi frega eh Dovrebbe fare teoricamente Uno due tre quattro E boom esplode tutto no Non proprio Non proprio Va bene anche questo livello ragazzi è molto bello Però ovviamente non possiamo stare qua Per dieci anni Io mi sono già stancato Di cercare di distruggere questa casa intelligente Adesso è arrivato il momento Di provare l'ultimo livello Il livello numero dieci E vedere esattamente di cosa si tratta Devo distruggere una miniera? Mi stai dicendo che devo fare esplodere tutto? Ok credo che qua ci metterò veramente un anno Solo per piazzarla la TNT Quindi faremo un solo tentativo ragazzi Non esiste che ne faccio più di uno Perché ci metterò una vita Per cercare di distruggere Tutta questa miniera Mio dio guardate quanta TNT mi sta dando No Ancora? Ancora? Ragazzi quanti sono? Uno due tre Quattro cinque sei sette Otto stack Mi ha dato otto stack di TNT Ma cosa vuole questo? Cosa vuole? Ah è una base È una base segreta Devo far esplodere una base segreta E allora divertiamoci E allora piazziamo TNT ovunque Mamma mia non vedo l'ora Non vedo l'ora Però sicuramente conoscendo questa mappa Non esploderà tutta quanta Ne sono sicuro al 100% Faremo esplodere soltanto una parte di questa cosa 100% ragazzi Ve lo posso assicurare Tra l'altro c'è anche un secondo piano Me ne sono appena accorto Le scale Come vi dicevo faremo un solo tentativo Perché come vedete il mio obiettivo Non è quello di finire la mappa Ma semplicemente di farvi vedere Cosa ha creato il mostro Che ha creato questa mappa E soprattutto di farvi divertire con le esplosioni Non dobbiamo necessariamente vincere Distruggere tutto quanto Completare tutti i livelli Non mi importa quello ragazzi E penso che l'abbiate capito Perché ormai non completo più un livello Da almeno 7-8 livelli Quindi 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 Qua dentro la TNT è già abbastanza Ma ci abbiamo ancora tantissimi altri stack Quindi perché no Utilizziamoli Utilizziamo tutto Spammiamo tutta questa TNT Ragazzi siete pronti a fare esplodere Tutto quanto il mondo Ora io non so se mi spiego esattamente qua Ma guardate un pochettino Cosa abbiamo combinato Ho riempito tutto quanto il mondo Di TNT Tutto Siete pronti? Accendiamola Accendiamola Non vedo l'ora Non vedo l'ora Accendiamo ovviamente qua Dal centro Così dovrebbe prendere più o meno tutto quanto Guardate che casino Oh mio Dio Dai ce la devo fare Ce la devo fare proprio qua Oh mio Dio E nonostante tutta la TNT che ci ho messo ragazzi Non siamo riusciti lo stesso a completare il livello Non mi importa Mi sono divertito veramente tantissimo A far esplodere tutto quanto Spero vi siete divertiti anche voi Ovviamente mi raccomando Lasciate un bel mi piace per questo video E fatemi sapere qua sotto nei commenti Se vorreste vedere degli altri video Dove faccio esplodere tutto quanto Dal vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao